ciao a tutti per la gente di youtube e benvenuti o bentornati sul mio canale oggi siamo ritornati su mars horizon arriviamo alla partita eccola qua non gioco dal 28 di ottobre ragazzi una cosa pazzesca è passata di acqua sotto ai conti le missioni pianificate sono queste uomo nello spazio e stiamo costruendo il veicolo ci vogliono altri due mesi e poi misurazioni ionosferiche stiamo costruendo ancora il carico utile quindi siamo ancora un po nei nei primi momenti della missione e siamo nel giugno del 1963 già la cina l'europa e il giappone hanno completato questa missione ossia quella dell'orbita lunare e noi ancora siamo in mezzo a una strada insieme all'america abbastanza sorprendentemente evento successivo allora ci ha contattato e mi sa il giappone proposto uno scambio di ricerche tecnologiche offre di condividere la sua ricerca di sorvolo di marte qualora l'agenzia condivide la propria ricerca su un battore di venere accettare l'offerta sbloccherebbe la ricerca sorvolo di marte io accetterei io accetterei che col giappone voglio creare un'alleanza spaziale ok abbiamo completato il centro di formazione per astronauti quindi potremmo avere i primi astronauti finalmente ovviamente gli astronauti devono studiare innumerevole discipline per soddisfare le esigenze dei viaggi spaziali dai sistemi delle novicelle spaziali dei veicoli alla meccanica orbitale alle scienze spaziali non è che uno fa l'astronauta così il giorno dopo ci vuole una certa preparazione non solo dal punto di vista tecnico ma anche preparazione soprattutto direi psicologica allora ora che hai costruito un centro di formazione per astronauti puoi assumere astronauti per il tuo programma spaziale ecco qui questi sono degli aspiranti astronauti che sono desiderosi di essere assunti nel nostro programma spaziale che è prestigioso prestigioso e ogni potenziale asserano da un costo di assunzione è uno stipendio mensile oltre un talento speciale e i talenti possono avere potenti effetti di missione valuta bene quali potrebbero essere più utili ok più stagisti saranno aggiunti periodicamente al gruppo quindi ricordati di controllare periodicamente questa schermata ed è importantissimo questa schermata ma dobbiamo controllare di tanto in tanto la costruzione di strutture più avanzate per la formazione degli astronauti si tradurrà in nuovi stagisti che avranno talenti di livello superiore questo è un po di più pure questo astronauta però è giovanissimo a 19 anni ma si prendiamo lui andiamo ancora al 2 ne possiamo assumere vabbè pure valentino ma si abbondiamo e le due bastano però le due basta c'è l'espansione centro controllo missione anche ci vorrà fare la missione in più contemporaneamente con d3 e io direi questa ecco abbiamo costruito il carico utile per la missione secondaria ottimo uomo nello spazio pericolo completato e fra l'altro i nostri ingegneri sono riusciti a migliorare l'efficienza del combustibile del veicolo quindi avremo un meno 50 per cento di penabilità sulla affidabilità del lancio per finestre di lancio sub ottimali quindi andiamo ai preparativi di lancio ecco questa è la prima missione con l'equipaggio umano io direi che mandiamo coran che è una celebrità quindi avrà diciamo una risonanza maggiore quando riguarda pubblico l'opinione pubblica ecco ok quindi confermiamo la configurazione lancio approvato il team operativo della missione quello dell'evo maggio inizionando i preparativi per il lancio e quindi siamo nell'agosto del 1963 dobbiamo anche ultimare l'altra missione delle misurazioni ionosferiche appartatore l'unione sovietica che saremmo noi siamo un mix fra italia e unione sovietica il veicolo sarà costruito dalla sua agenzia questa opzione non darà alcun bonus o penalità ok abbiamo due appartatori nuova corporation affidabilità del lancio 23 per cento ma siete pazzi cosa significa questo ah ok se scegliamo questo appartatore ci darà poche risorse in termini di scienza però costa poco nuova corporation invece ci costruisce tutto in metà tempo vedete da quattro mesi passiamo a due però l'affidabilità fa schifo selezioniamo con vabbè io direi di confermare però dovremmo cercare di cercare lo stadio superiore eccolo qua e lo facciamo subito perfetto e si arriviamo cioè se la missione ha successo e anche quella europea avrà successo e arriveremo a pari pari posizione mi sa allora la data è ottimale rischio medio e l'affidabilità è buono e vediamo come andrà e sono momenti emozionali perché si tratta del primo uomo nello spazio nell'orbita della terra nome impronunciabile del razzo ok 5, 4, 3, 2, 1 vai andata bene si andata bene andata bene lancio sicuro perfetto aumentano i livelli dei nostri componenti che diventano via via sempre più affidabili ovviamente le tecnologie saranno migliorate con i vari studi e le varie prove che si effettuano eccoci qui uomo nello spazio ok nuovo compito raggiungi l'orbita terrestre quindi dobbiamo raccogliere quattro risorse di comunicazione e 6 di navigazione perfetto questa è una missione con equipaggio che significa che la risorsa equipaggio è disponibile ok equipaggio può essere usato su comandi che tipicamente generano più risorse del solito avrai solo un numero limitato di equipaggio per turno ma si ricaricheranno all'inizio del turno successivo quindi è una importantissima è molto strategica allora questo giochino che io odio perché non è che qui si tratta di strategia o gestione questo è un semplice rompicavo come non lo so a cosa paragonare questo giochino forse al tetris a tetris ecco io questo gioco lo paragono a tetris perché deve mettere i pezzi in maniera perfetta in modo da ottenere con una certa conformazione esplosione statica una piccola eruzione solare ha causato uno scoppio statico sovraccaricandola in trasmissione resistiamo vedete quante importante energia missione completata perfetto si ritorna a casa ok siamo arrivati i secondi ok dai bene 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 perfetto perfetto strada equipaggio con palescenza sei mesi poverino ecco abbiamo fatto bene ad assumere due astronauti è stanco è stanco allora siamo arrivati i secondi quindi sono relativamente soddisfatto e andiamo a completare questa missione secondaria riguardate le misurazioni ionosferiche e andiamo a costruire il veicolo ecco ecco il qua lo stanno costruendo poi dovremmo concentriamoci ancora sulla terra vediamo le conquiste che abbiamo e sulla terra siamo andati benissimo eh primo 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 secondo secondo meglio di così non si può vediamo per quanto riguarda la luna cosa c'è orbita lunare siamo un po' indietro siamo troppo troppo indietro ecco andiamo verso l'orbita lunare e per farlo ci serve un carico utile ecco passiamo questo carico utile standard vorranno due mesi come già ho detto prima e ora dovremmo fare una ricerca ritorniamo sempre sulla ricerca ecco ecco questa qua esponzione centro controllo della missione e possiamo passare al metro successivo documentario sulla base una truppo di documentaristi è richiesto un tour delle due strutture per l'addestramento degli astronauti tuttavia consulenti per la sicurezza hanno fatto notare che altre agenzie potrebbero essere in grado di conoscere il tuo programma se un tale documentario venisse pubblicato ma noi siamo unici e bravi lo stesso chi se ne frega se gli altri ci copiano noi accettiamo non abbiamo nulla da invidiare ai nostri alla concorrenza quindi accettiamo il documentario perché tanto siamo i più bravi e gli altri non potranno mai superarci ma solo copiarci quindi al massimo saranno bravi come noi il documentario a parte di uso del tuo programma di astronauti ha portato ad un aumento dell'interesse del pubblico per l'esplorazione dello spazio quindi abbiamo guadagnato ovviamente supporto perché all'opinione pubblica piacciono queste cose però purtroppo un'agenzia concorrente ha guadagnato scienza copioni siete vergognosi siete senza dignità facciamo questa missione di conquista orbita con equipaggio multiplo però per farla ci vuole questa ricerca ci vuole questa ricerca la ricerca del washcode che non so cosa sia e ricerca consigliata a parte del veicolo e della missione e ecco ci vuole questo il washcode è una capsula sferica multiposto progettata per trasportare il suo guidaggio nello spazio e sostenere varie attività in orbita e se lo ricerchiamo sblocca uno slot missioni aggiuntivi ci vuole l'espansione del centro controllo missione che costa un bel po' di soldi e ci vogliono sei mesi vabbè perfetto ok quindi ci rivedremo fra sei mesi quando avremo ben tre slot per le missioni ecco che abbiamo costruito il carico utile per la missione orbita lunare quindi andiamo a progettare il veicolo ok nuovo progetto stadio superiore allora dovremo andare sulla luna ecco questi sono arrivano fino all'orbita terrestre quindi non sono adatti ok fra cinque mesi quindi quel veicolo sarà completato ok siamo rivelcato una parte di veicolo importantissima per quanto riguarda i lanci con equipaggio multiplo nel frattempo questa missione secondaria finalmente sarà completata e da e da un anno che che ci accompagna questa missione delle misurazioni ionosferiche eccoci qua finalmente quindi lanceremo questo razzo che avrà il compito appunto di mettere un satellite in orbita in orbita attorno alla terra per misurare le fluttuazioni della ionosfera qualsiasi cosa sia la ionosfera e un po' lo sapevo ma ormai ho dimenticato tutto ok dai ci siamo ripresi un pochettino eh le cose stavano andando male però poi stiamo capendo meglio il gioco ecco 71% affidabilità del lancio buono ok ecco qui il lancio è stato ottimo quindi abbiamo più una di energia per la durata della missione buono buono ok quindi andiamo di nuovo a fare il giochino beh è molto facile questa dai vai esiste esisti ok sessione completata con successo ok abbiamo ottenuto poco 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 di scienza e un po' di supporto ecco ecco qui finalmente quindi ora andiamo a selezionare un'altra richiesta anzi no è sbloccata questa conquista importantissima orbita con equipaggio multiplo un importante conquista nella storia dell'umanità un'orbita terrestre con equipaggio garantirà una gran competenza tecnologica e scientifica così come ispirerà il mondo in generale perfetto perfetto e purtroppo la nasa lancerà questa missione da 10 mesi e potenzialmente la completerà al primo posto quindi ci dobbiamo sbrigare quindi pianifichiamo questa missione è importantissima questa è una missione di conquista ok carico utile è fondamentale per eseguire le ricerche nello spazio e dobbiamo fare qualcosa di veloce perché dobbiamo anticipare gli americani qui la precedente devo paggio 2 il posto di costruzione è aumentato facciamo standard facciamo standard facciamo standard costruiamo il quattro mesi io penso che arriveremo ai secondi però vediamo un po' cappello ricevuto un programma radiofonico locale ha riportato come la tua agenzia abbia inviato un cappello con il marchio Unione Sovietica ad uno dei suoi ascoltatori che ha sofferto durante il recente breakout mi hanno davvero reso felice la giornata ha commentato l'ascoltatore Goran Rusakov che è il nostro astronauta e la celebrità l'ha persino firmato e se noi rendiamo felice la gente noi doniamo felicità e sorrisi guadagno 100 di supporto grazie meritatissimi comunque nel frattempo la ricerca dei due razzi a combustibile è stata completata ok abbiamo uno slot missione aggiuntivo io penso che dovremmo concentrarci sulle missioni secondarie solo se ci danno delle risorse in abbondanza e inutile fare missioncine così per esempio questa mi piace guarda quanta scienza da quanto supporto da quello è spettacolare e questo ci da pure tanti soldi e ne avremmo bisogno di soldi si siamo un po' in crisi siamo un po' in crisi come supporto siamo messi bene eh io direi di fare questo osservatore solare ci danno 1700 crediti che sono tanti un gruppo di ricerca sta cercando di creare un osservatorio solare orbitante lancio il satellite in orbita attorno alla terra per partecipare al progetto ma si facciamo questo dai un po' di soldini ci vogliono ecco qua il satellite di osservazione ok orbita con equipaggio multiplo carico utile completato perfetto ok andiamo a progettare il veicolo finalmente ok nuovo progetto stadio superiore la sfiderina la sfiderina qui c'è da ricercare ma costano tantissimo io direi di costruire qualcosa anche in vista del futuro per esempio questo costa costa un po' di meno però è adatto solo all'orbita terrestre questo qui invece adatto anche ai pianeti interni però costa tantissimo ma si ma si però prima lo dovremmo ricercare allora come invece propulsore siamo coperti perché abbiamo questi due tipi che sono carissimi più o meno mille crediti ognuno mappa siamo rimasti senza soldi ragazzi mappa allora intanto direi di andare a ricercare questo qua e delta k delta k questo pezzo ci serve allora veicoli delta k vediamo se eccolo qua questo ci serve e vediamo un'altra missione quella dell'orbita lunare se possiamo fare qualcosa sì qui il veicolo è pronto manca solamente manca solamente cosa niente lo possiamo già lanciare lo confermo ogni volta mi dimentico di confermare la data della missione cos'è successo ok osservatore solare questa missione ci darà un bel po' di crediti e io ne sono felicissimo costruiamo quindi questo veicolo che sarà completato nel giornale del 1965 ecco qui vabbè questa è una missione anche inutile perchè ormai i primi tre posti li abbiamo persi 90% ho fidabile la data 5 4 3 2 1 BOOF c'era vabbè questa è sfiga però eh c'era il 90% di possibilità che tutto filava liscio è successo avere del carico utile vabbè ok va bene così da un miramento bello scusatello vabbè questa è sfiga però eh sinceramente parlando ok compito completo alleluia finalmente la luna ah ok qui c'è quindi c'è il doppio incarico va bene prima c'era un carico vicino alla terra e ora vicino alla luna va bene allora e qui è un po' più difficilotto perfetto si vai vai facciamo gli ottimisti e io lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo io lo sapevo secondo me secondo me secondo me c'è qualcuno che che fa il sabotaggio andiamo sulla luna andiamo sulla luna dai all'unaggio un enorme salto per il genere umano il primo astronauta ad aver messo piede su un altro mondo rappresenta un monumentale trionfo dell'ingegno e dell'audacia dell'uomo coloro che lo realizzeranno saranno immortalati dalla folla sbalordita della terra si ci serve e ci servono un bel po' di cose da ricercare molte cose ci concediamo sulla terra per ora c'è orbita eva come missione di conquista che non sarebbe male le prime immagini di una passeggiata nello spazio sono sicuramente in grado di catturare l'attenzione del pianeta in generale quindi questo ci servirà più che altro per il supporto ma si dai facciamo sta orbita eva se hai visto se hai visto poi pensiamo alla luna allora oggettiamoci osservatore solare nel prossimo mese lancieremo il razzo orbita con equipaggio multiplo sarei palla però quattro mesi questa è una missione che ci darà tanti soldi lucrativo dovrebbe andare tutto bene eccoci qui 83% vediamo un po' ecco i razzi li vedete sono vedete un po' l'aspetto dei vari razzi che è un po' più moderno rispetto a quelli precedenti vabbè no c'erano queste sfortuna prima 90 per cento è andata male ora 33 per cento è andata male di nuovo cioè ma con 83 per cento 90 per cento di possibilità che la cosa vada bene come può essere che la cosa fallisce in tutte e due i casi eh qui è un po' più complicatello vabbè 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 comunque la missione è andata bene ma non abbiamo preso il bonus azienda ok e l'Europa l'Europa ci ha fregati quando riguarda l'orbita con equipaggio multico che è arrivata prima va bene va bene va bene arrivaremo secondi se tutto va bene facciamo la verifica dei sistemi di controllo con la missione ok ok decidiamo quali due carichi utilizzare questo qua non è costriamo carico ok andiamo al mese successivo e mi sa che sarà un mese importantissimo perché andremo nell'orbita della terra con equipaggio multiplo questa è una missione di conquista fondamentale equipaggio ecco qui confermiamo nel frattempo assumiamo un altro un altro membro inizia ogni compito con più un'energia santa anche lui assumiamo che lei era una donna mi sa si chiama lei margarita più 10 per cento ricompensa scienza disegna ok abbiamo quattro astronauti ok formiamo l'equipaggio per il volo orbitale intorno alla terra facciamo formazione per l'affidabilità del lancio data di lancio giugno è ottimo confermiamo ok meta successiva che cosa vuole l'europa l'agenzia europea ha richiesto che tu re indirizzi il tuo satellite di osservazione usato nella missione osservatore solare per localizzare un violento ciclone tropicale che potrebbe rivelarsi pericoloso per diversi paesi eccetti i tuoi consulenti credono che la tua agenzia guadagnerà reputazione con l'agenzia europea tuttavia il tuo team della missione stimo che la produzione scientifica della missione sarà ridotto di un metro dai dai facciamo del bene dai li direzioniamo dai 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 facciamo i bravi ecco qui che probabilmente arriveremo secondi in questa missione ero con tutto il cuore eh è una missione di conquista ah e sta piovendo questo è il sabotaggio ragazzi fu pure il tempo che ci si mette mannaggia la misera 61% ma si dai ma chi se ne prega 5 4 3 2 1 oh dio mio eeeh alla grande ok è andata bene fortunatamente perfetto meno male meno male siamo nel giugno del 1965 ok questo è bello complicato eh il bonus è complicato le risorse base sono abbortabili conferma si vai ma 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 meno male che abbiamo l'energia ok ok ah ma c'è un altro compito effetto è rientro controllato vabbè è vero così per completare questo compito dovrei mantenere un attento controllo sulla temperatura del carico utile punto di impedire che il calore non raggiunga il livello critico ah ho capito si ma qui la cosa si fa complicatissima se il calore si trova a questo livello oltre al livello critico alla fine del turno la missione si concluderà immediatamente il calore può essere ridotto selezionando i comandi che lo usano come ingresso ma c'è da impazzire qua ma così dovrebbe andare bene no no e questo gioco a un certo punto diventa proprio ansia ok secondi ottimo ottimo ecco i nostri due astronauti se ne vanno per sei mesi in vacanza a riposarsi ma noi ne abbiamo altri due eccola qui uno è elettricista l'altra è uno scienziato e va bene ragazzi io direi che per questa puntata è tutto nella prossima puntata la prima cosa che dovremmo fare è scegliere due missioni ovviamente sceglieremo delle missioni di conquista ecco qui vediamo questa ricerca ancora a metà ancora a metà oppure faremo una missione di una richiesta secondaria e io punterei gli occhi e l'attenzione sull'allonaggio ci sono un sacco di cose da fare un sacco di cose da fare vedremo vedremo un po' questa corsa verso lo spazio è davvero infinita ragazzi è davvero ardua soprattutto e va bene io direi che è davvero tutto ci rivediamo nel prossimo gameplay mi raccomando non mancate e come sempre ci rivedremo in mille altre avventure ciao ciao ciao